Questo video è realizzato in collaborazione con la pagina Facebook Serie TV e SOP, di cui trovate i link in descrizione. La promessa. Anticipazioni da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile 2024. Curro e Martina sono ancora al loro picnic quando Curro sveglia Martina che si era addormentata. Lei gli confessa di averlo sognato, e poi lo bacia con passione. I due ragazzi, travolti dalla loro passione, si lasciano andare, e in un momento di intimità iniziano a spogliarsi. Maria raggiunge Salvador, intento a tagliare legna, e con aria affranta gli comunica che non desidera più sposarsi con lui, poiché non crede più in un futuro insieme. Maria gli dice che da quando è tornato dalla guerra, è diventato un'altra persona. Aggiunge che desidera sposarsi, ma non in quella situazione, perché il matrimonio è una cosa molto seria. Quindi decidono di rimandare la cerimonia solo per un po'. Tuttavia, quando Maria si allontana, Salvador ha nuovamente un attacco di rabbia. Curro e Martina sono sdraiati vicini, ancora nel bosco. Lei gli esprime la speranza che il comportamento di lui non cambi dopo aver fatto l'amore, poiché molti uomini, una volta ottenuto ciò che desiderano, dimenticano le belle parole e le promesse. Curro risponde con fermezza di amarla profondamente e di rispettarla sempre. Manuel si avvicina a Ana mentre lei sta sistemando dei bicchieri in tavola, e nota che è nervosa. Le chiede cosa sia successo, e Ana racconta che la Marchesa Cruz l'ha rimproverata nuovamente per il fatto che si prende cura di Imena. Poi, Ana dice a Manuel che, se non affronterà presto sua madre riguardo a quella questione, non aiuterà più Imena. Manuel promette di parlare con sua madre Cruz quel giorno stesso. Catalina comunica a suo padre, Alonso, che Lorenzo desidera riscuotere il suo debito con loro. Questo perché, nel contratto precedentemente firmato da Alonso, esiste una clausola che concede a Lorenzo il diritto di richiedere il rimborso in qualsiasi momento. Alonso non ricorda quella clausola, perché era scritta in caratteri piccoli e non ha prestato attenzione. Catalina spiega che al momento non dispongono dei fondi necessari per saldare il debito con Lorenzo, in quanto li hanno investiti altrove. Alonso, visibilmente agitato, promette di affrontare la questione direttamente con Lorenzo al più presto. Si è fatta sera, e Simona e Candela parlano con Ana riguardo ai presunti malanni di Imena, quando arriva Maria, visibilmente triste e afflitta. Le donne le chiedono cosa sia successo, e Maria confessa di aver annullato il matrimonio, perché non si sente pronta ad andare avanti. Poi, prega le altre donne di mantenere il segreto, poiché lei e Salvador desiderano annunciare la notizia assieme. Prima di andare a letto, Manuel passa dalla camera di sua madre, Cruz, per discutere di Ana. Manuel le spiega che Ana si prende cura di Imena su sua richiesta, e perché sa come alleviare alcuni dei suoi dolori. Cruz chiede se Ana lo fa in cambio di qualcosa, ma Manuel risponde che Ana lo fa semplicemente perché è gentile e si preoccupa degli altri, senza chiedere nulla in cambio. Pertanto, chiede alla madre di smettere di infastidire Ana e di lasciarla in pace. Il giorno seguente, Ana torna alla casa della sua infanzia. Appena entrata, ha la sensazione di non essere sola, e chiede ad alta voce chi è che si nasconde. Non ricevendo risposta, lascia un biglietto con scritto chi sei. Infatti, sembra che qualcuno la stia osservando da dietro una porta. In camera, Manuel e Imena discutono di Cruz. Imena esprime il suo disagio per il fatto che Cruz le stia sempre addosso a causa della gravidanza, e chiede a Manuel di non permettere a sua madre di allontanare Ana, poiché Ana le allevia molti dei suoi dolori fisici. Manuel cerca di giustificare sua madre, e spiega a Imena che ha già affrontato l'argomento con lei. Proprio in quel momento, arriva Cruz a interrompere la loro conversazione. Romulo incontra Pia nei corridoi del piano della servitù, e le comunica che quella mattina parlerà con il marchese per ottenere una delle casette nella tenuta per lei e suo marito. Tuttavia, Pia lo ferma, e gli chiede di non farlo più, poiché sta considerando l'idea di lasciare la promessa insieme a Gregorio, e di trasferirsi altrove per cambiare lavoro e vita, ritenendo che sia la scelta migliore per il futuro nascituro. Romulo la avverte di pensare attentamente alla decisione, poiché tornare indietro dopo un errore potrebbe risultare difficile. Curro raggiunge Ana, estasiato e felice per come è andato il picnic con Martina. Con riconoscenza nel cuore, ringrazia Ana per avergli consigliato di organizzare il picnic, e le confida che, dopo questa esperienza, sente di amare Martina ancora di più e di non poter più fare a meno di lei. Candela e Simona sono preoccupate perché Don Carlos non si presenta alla lezione. Candela, in particolare, è molto triste, e commenta quanto sia strano, poiché Don Carlos non ha mai fatto tardi a nessuna lezione. Arriva Lope che porta loro una tisana, e poco dopo giunge anche Petra, la quale, con la sua consueta cattiveria, ipotizza che Don Carlos potrebbe non essersi presentato perché si è stofato delle sue allieve. Mentre Imena, Manuel, Curro, e Martina stanno giocando allegramente a un gioco da tavolo, Manuel e Imena notano che Martina sembra particolarmente felice e luminosa. Decidono di chiederle cosa le sia successo, ma Martina cerca di eludere le domande semplicemente dicendo che si sente bene. Pia si reca da Gregorio e gli comunica che ha cambiato idea riguardo alla decisione di lasciare Luan e la promessa. Spiega che desidera rimanere perché li ha i suoi amici e non vuole che il futuro figlio cresca lontano dalle persone che la amano, desiderando per lui un ambiente pieno di affetto e amore. Gregorio reagisce male alle parole di Pia, e contrariato si allontana. Simona e Candela informano Romulo che Don Carlos non si è presentato alla lezione e sono preoccupate. Romulo trova la situazione strana, poiché sa che Don Carlos è una persona responsabile, ma rassicura le donne dicendo che sicuramente il giorno seguente si presenterà e darà spiegazioni. Simona è preoccupata che Don Carlos possa essersi stufato di loro, come detto da Petra, ma Romulo le consiglia di non darle ascolto. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.